Il ragazzo invisibile Il primo coincide con un lutto, il secondo con il dono dell'invisibilità, il terzo riguarda un passato scomodo del quale fanno parte una madre biologica russa ed una gemella cresciuta in Marocco della quale non sospettava l'esistenza. Ora Michele dovrà capire se essere uno speciale sia davvero un dono o una dannazione. Dovrà scoprire chi vuole essere davvero e fare i conti con il suo lato oscuro. Questa importante fase si chiama diventare adulti in un universo in cui l'evoluzione della specie non è mai indolore. Per scoprire qualcosa di più sul contenuto del film andremo ora ad incontrare il regista Gabriele Salvatores. Buonasera Gabriele Buonasera Loredana Allora Gabriele facciamo un passo indietro, ci racconti come nasce la creazione del ragazzo invisibile e che cosa hai aggiunto tu rispetto al primo ragazzo invisibile oltre al fatto ovviamente che adesso Michele Silenzi ha 16 anni. Beh, devo essere onesto, l'idea di fare un film italiano che si riferisse al mondo dei supereroi è di Nicola Giuliano, del produttore di Indigo. Lui ha un bel po' di figli che spesso gli chiedevano Papà andiamo a vedere insieme il film che hai fatto e ogni volta lui era costretto a dire no non va bene per te e pian piano si è reso conto che in effetti in Italia non c'è una produzione young adult come dicono gli americani che fa molto più chic che dire invece film per famiglie. Cioè è un film che possa piacere sia ai ragazzi che ai genitori o agli adulti che li accompagnano. Abbiamo quindi, siamo entrati in questa avventura, ormai sono sei anni che stiamo dietro a questo ragazzo invisibile, cercando però di approcciare il genere dei supereroi in maniera molto nostra, italiana, europea, cercando quindi di non fare poi un vero e proprio supereroe all'americana. Il nostro Michele Silenzi nel secondo si vede anche di più perché è cresciuto e proprio non ha il physique du rôle, è magro magro, filiforme, è più timido che arrogante, eroico. E infatti abbiamo scelto un superpotere molto intimo, la possibilità di scomparire, di essere invisibile. Nel primo film questa cosa, la scoperta di questo superpotere lo accomunava a tanti ragazzi della sua età. Credo che ognuno di noi avrà provato una volta nella vita o il desiderio di scomparire oppure la paura di essere invisibile. A me per esempio succedeva nelle feste, da ragazzino c'era una ragazza che mi piaceva e facevo di tutto per farmi notare. Magari mi passavano, ecco lì dico ma che sono invisibile? L'abbiamo provato un pochino tutti, credo questa cosa. E a volte il desiderio invece di essere invisibile. Io per esempio non sono bravissimo nelle interviste, in questo momento non mi dispiacerebbe poter essere invisibile. L'invisibilità è anche una cosa che viene imposta, molti ragazzi, molti giovani sono quasi costretti a essere invisibili, nel senso che non gli diamo visibilità anche a giovani artisti, anche a giovani musicisti, giovani attori. E invece i cuccioli sono del branco, dovremmo proteggerli, dovremmo fare in modo che camminino da solo. Questo era un po' il primo ragazzo invisibile come tema. Il secondo diventa un pochino più spesso, come dite da queste parti, nel senso di pieno di problemi anche un pochino più adulti. A 16-17 anni naturalmente i problemi diventano un pochino più seri e complessi. Si scopre anche quel lato oscuro della vita che però non è necessariamente negativo ma che ti permette di crescere. C'era una bellissima poesia di Paul Nisan, un poeta francese che diceva avevo 16 anni e non permetterò a nessuno di dire che è l'età più bella della vita. Ecco, è un'età bella ma è un'età anche piena di problemi. Io non so se vorrei tornare indietro per esempio. Sì effettivamente, non è oggigiorno, non è così semplice. Esatto. Soprattutto Gabriele, tu appunto parlavi del fatto di talvolta non dare troppa visibilità ai giovani. La visibilità ma quella vera a mio avviso perché in un momento così di forte presenzialismo come ad esempio i social network, non so se tu sei, navighi, insomma e utilizzi. Sì assolutamente no, quindi in questo caso sei invisibile. Ma i ragazzi a talvolta hanno proprio questo bisogno, tutti noi siamo molto spesso collegati continuamente, postiamo foto con gli amici, i compagni, quello che facciamo, dove andiamo, cosa mangiamo addirittura. Ma quindi in realtà tu che cosa vorresti comunicare attraverso questo superpotere dell'essere invisibile? Beh lo diceva, l'ho visto su un muro di Amsterdam scritto probabilmente da Bansky che è questo bravissimo artista di strada, tra l'altro uno dei musicisti dei Massive Attack, non so se ti ricordi, che aveva scritto, c'era un bellissimo disegno e c'era scritto in un'epoca di selfie il vero superpotere e l'invisibilità. Lo penso davvero, nel 96 quando feci Nirvana il film finiva con la protagonista femminile che diceva Naima is online, cioè è connessa. Oggi forse per essere provocatori dovrebbe essere Naima is disconnected, è sconnessa. Cioè nel senso di, dicevi giustamente tu, i social network e tutto questo sistema, è un'illusione di presenza e di visibilità. Io quando parlavo di visibilità dei giovani parlavo di visibilità nel mondo del lavoro, nel mondo dell'espressione. Cioè nel primo film per esempio abbiamo fatto un concorso per giovani musicisti senza etichette, senza contratti per comporre una canzone dei ragazzi invisibili e ne abbiamo inserite tre nel primo film. Era un modo di rendere visibili degli invisibili non per loro volontà. Ecco infatti ricordiamolo questo che Gabriele spesso è vicino al mondo dei giovani anche in questo senso. Ci proviamo, ci proviamo. Per esempio il secondo ragazzo invisibile nasce da un concorso fatto con la G Scuola in varie scuole. Qui abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere un tema immaginando il secondo episodio. Ecco diciamo anche che è molto interessante, soprattutto nel primo ragazzo invisibile, il fatto che tu abbia trattato una tematica molto delicata come quella del bullismo. Attraverso anche, cioè Michele Silenzi in realtà ha questo potere, questo superpotere di essere invisibile. Ai ragazzi di oggi che cosa consigli, se tu ad esempio ipoteticamente ti trovassi dinnanzi ad una classe di bulli, bruttissimo utilizzare questo termine ma di fatto è un po' per etichettare chi non ha rispetto in realtà per un proprio coetaneo, o comunque insomma un altro essere umano. Se tu appunto ci trovassi dinnanzi ad una classe di ragazzini con queste caratteristiche, cosa ti sentiresti di dire a loro? Quale, o anche magari ai loro genitori? Sì, brava, perché la responsabilità, quando vedi un cane, scusate il paragone, però, quando vedi un cane aggressivo è molto difficile che il cane sia aggressivo perché è aggressivo, probabilmente è aggressivo perché il padrone è aggressivo. È un paragone un po' forte, però è vero anche per i genitori e i figli e anche chi dovrebbe dare l'esempio. Vedi, il BVM è una società in cui la rissa televisiva o sulla rete, come giustamente dicevi tu, l'arroganza, l'aggressività viene considerata quasi un valore. Una volta ovviamente non era così e quindi i deboli, i diversi vengono considerati. Qui ci leghiamo a molti temi anche del nostro ragazzo invisibile 2. Comunque, i diversi vengono considerati persone da tenere via. Pensa solamente al selfie, no? Tu fai una foto, di solito le foto, come la macchina da presa, guarda il mondo. Vendas diceva che funziona quando ha due obiettivi, uno verso l'esterno e uno verso l'interno di chi fotografa o di chi riprende, e che quindi rende il suo sguardo sul mondo. Normalmente guardi il mondo facendo una foto. Il selfie sei tu e dietro il mondo. È ridicolo, no? Allora, questa visibilità non mi interessa e questa visibilità tende a rendere aggressivi. Allora, i deboli vengono presi, o quelli che sembrano diversi, anche semplicemente perché stanno zitti, magari in classe, sono più timidi, eccetera, vengono presi di mira perché così ti senti forte, ti senti... È una vecchia storia, esiste da sempre nell'uomo, purtroppo, questa cosa. Il potere del branco, il sentirsi un gruppo cattivo, ricordati, sono tanti film, Arancia Meccanica, uno per tutti, no? C'è sempre stata, ma purtroppo la rete che sembrava, cioè il web, che sembrava una utopia di libertà, ha fatto moltiplicare queste brutte tendenze degli umani. Non è soltanto una rete di diffusione, ma anche una trappola, quindi una rete trappola. Secondo me sì, è una parola bravissima, io la uso proprio così, delle volte. Ecco, possiamo sì riassumere il tuo intento nel voler, in qualche modo, suggerire ai ragazzini di ricercare il supereroe che c'è in loro? È molto giusto quello che dici, sono contento. Sì, il film, e soprattutto il secondo, dice questo. Ognuno di noi ha un superpotere, una volta si chiamavano talenti, no? La parabola dei talenti. Ognuno di noi ha dentro qualcosa di importante. Lo devi scoprire e lo devi far crescere, coltivare ed usarlo nella maniera giusta. Noi non abbiamo bisogno di supereroi, secondo me. Abbiamo bisogno di gente normale che faccia bene il proprio lavoro e che capisca che siamo in questo mondo condividendolo con altri. E non è nostro il mondo, siamo ospiti di questo mondo. Abbiamo bisogno di gente così. Il nostro supereroe, in realtà, è un ragazzo normale, molto normale. E il gioco dei superpoteri serve solo a rendere un pochino più fantastica questo racconto. Ecco, tu sei un grande sperimentatore, Gabriele, no? Conosciamo un po' quella che è la tua storia cinematografica, che ci ha fatto vedere veramente delle cose diversissime. In questo caso, tu pensi, sai qual è sicuramente il metodo di catturare l'attenzione del pubblico? In questo caso, insomma, lo vediamo anche attraverso gli effetti speciali. Vediamo che abbiamo un racconto particolare attraverso il genere fantasy, che, insomma, è anche un po' inusuale raccontare determinate problematiche legate all'adolescenza attraverso un genere così diverso dal solito. Essendo un grande sperimentatore, sapendo che comunque si può catalizzare l'attenzione del pubblico cambiando, attraverso anche il cambiamento, tu pensi anche ad un Michele Silenzi che cresce e quindi, chissà, magari ad una terza generazione? Non lo so, teoricamente sarebbe possibile, nel senso che più che un sequel, questo è proprio il secondo capitolo di una saga, è più simile a Harry Potter che a Batman, no? Cioè, il protagonista cresce e quindi cambiano le storie in cui viene convolto. Non so se continueremo a farlo, dipende anche un po' dal successo che avrà il film, se ne potrebbero fare tante. Io mi prenoto per l'ultima puntata della saga, il nonno invisibile, mi piacerebbe questa. Io, osservando un po' i tuoi lavori, ed in particolar modo il ragazzo invisibile seconda generazione, ti ho paragonato a William Blake, questo grande poeta, incisore. Grazie. Sì, forse se ci fosse stato il cinema all'epoca, probabilmente, no? Sareste stati colleghi, competitor, oppure sarebbe stato molto bello. Facciamo fare le musiche agli you two che si sono ispirati a lui, quindi... Ecco, ma fondamentalmente perché trasponeva quelle che erano le sue visioni, nelle incisioni, nelle poesie, ma soprattutto una cosa che a mio avviso vi accomuna è il fatto che senza contrari, diceva Blake, non c'è progresso. Certo. Quindi è una tematica che tu affronti nel ragazzo invisibile seconda generazione. Assolutamente. Ed è una cosa che si ricollega ai miti greci addirittura, no? Il confronto di un ragazzo, il primo confronto è quello con i genitori, che dovrebbero essere, come si dice in inglese, degli sparring partner, no? Cioè degli allenatori, ecco, non mi veniva alla vita per i propri figli. Il primo confronto dico è quello perché si parte da una dipendenza totale, quando sei piccolino, quando sei bambino, nasce un senso di criticità a un certo punto e poi, come dicevano i classici greci o gli psicanalisti, ancora oggi, per crescere devi metaforicamente, mi raccomando, non alla lettera, eliminare i tuoi genitori nel senso di superarli. Freud diceva se vuoi veramente possedere quello che i tuoi genitori ti hanno lasciato devi riconquistartelo, riprendertelo, riconquistartelo da solo. Il tema del secondo capitolo del Ragazzo Invisibile, il tema centrale, è proprio questo. C'è una battuta molto bella, secondo me, alla fine della sorella del Ragazzo Invisibile, Natasha, che dice, Misha, che è il nome russo di Michele, Misha, siamo di nuovo orfani. Non c'è bisogno di essere orfani, veramente, però in qualsiasi romanzo per ragazzi di letteratura, per ragazzi, in qualsiasi film, la partenza dell'avventura è quando sei orfano, tra virgolette, nel senso quando non hai nessuno che ti protegge più, allora devi affrontare tu il mondo da solo. Quindi, è proprio quello che dicevi, il contrasto è quello che ti fa crescere, la scoperta anche del lato buio, che non necessariamente è negativo, è quello che ti permette di diventare adulto. Quindi avere questo superpotere di essere invisibile è sia un dono che una dannazione. Assolutamente, è così, come si diceva, soprattutto in una società come questa, in cui se non la compari da qualche parte e non esisti, l'invisibilità può essere una dannazione. e non è un caso che vengono resi invisibili dai media, dai politici, le cose che non si vogliono risolvere. In questo c'è una forte esperienza. Che cosa ti ha trasmesso questa esperienza di lavoro con un team molto giovane, insomma, di questa fascia d'età precisamente? Guarda, io cito sempre una cosa che mi piace molto di Miles Davis, che è un musicista che ovviamente amo molto. Lui diceva, se vuoi rimanere interessante, suona con gente più giovane di te. È molto importante. Prima dicevo degli U2, mi è capitato di intervistare Bono e Di Edge tanti anni fa, parlando proprio di questo, di come ci si raffronta tutti e due. Siamo partiti io dai centri sociali milanesi, loro in Irlanda, con quindi tutte le istanze cattoliche, no? E poi hai successo e ti ritrovi da un'altra parte. Come puoi fare a mantenerti legato a un qualcosa di contro? Non so se riesco a... Mi viene questo. E mantenendo il legame con le generazioni giovani, che per natura sono un pochino più contro. Gabriele, pensi di essere uno speciale? No, io penso di avere... No, io non lo so. La mia aspirazione in realtà è quella di essere una persona normale. Il mio problema è che faccio un lavoro speciale, questo sì. E ne sono molto contento, ho avuto questa fortuna. Però come tutte le cose belle, c'è anche un lato negativo. Questo lavoro che faccio mi costringe a, in qualche modo, a essere speciale, nel senso di a non dover... Cioè, a non poter considerare la vita quotidiana di tutti i giorni la mia vita. Non è così. Ed è... Ti assicuro che quando sei più giovane, magari questa cosa ti esalta, andando avanti nella vita invece questa cosa ti manca. nel senso che quando finisce un film per me si apre proprio un vuoto totale e devo ritornare nella realtà di tutti i giorni e non sempre la realtà riesco a gestirla. Infatti, tra quattro giorni parto per i sopralluoghi del prossimo film perché non riesco a stare fermo. Questo è un essere speciale, non molto positivo. Io mi piacerebbe essere un pochino più legato alla quotidianità e alla realtà della vita reale. Vivo invece in un mondo un po' fantastico che è il cinema, che è meravigliosamente bello, che ti dà l'illusione di poter governare le cose. Da regista tu decidi come va la storia, come finisce, se finisce bene, se finisce male. Nella vita non c'è un copione e quindi non si può fare la regia. Al massimo puoi fare l'attore, ma non mi viene benissimo. Che regista sei nella vita? Eh no, nella vita, come ti dicevo, nella vita è un vizio professionale. Cerco, per esempio, l'illusione che ho è quella di poter governare le cose. Allora non so se devo andare al ristorante, l'ho prenotto due giorni prima, arrivo in stazione mezz'ora prima della partenza, perché per me l'organizzazione delle cose è importante, ma è un'illusione, perché la vita è caos in realtà e forse bisognerebbe lasciarsi andare un pochino più sulle onde di questo mare, a volte in tempesta, a volte piacevole. Siamo nati dal caos, no? Sì, esattamente, continuiamo ad esserlo. Ma se tu ad esempio dovessi dare un titolo alla tua vita, come se fosse un film, c'è un titolo che ti verrebbe in mente, magari di qualcosa che c'è già stato? Sì, sì, c'è un romanzo, è il titolo di un romanzo che da ragazzo ho amato molto, ed è On the Road di Jack Kerouac. Sì, la mia vita è proprio veramente stata on the road in tutti i sensi, sia praticamente, perché io suonavo prima di fare teatro e poi cinema, quindi è da quando avevo vent'anni che vado in giro in tournée sulle strade italiane e non. Ed è un The Road anche dal punto di vista più intimo e non solamente pratico, perché come ti dicevo, faccio fatica a fermarmi. se mi fermo rischio la malinconia che è dentro di me e che ogni tanto prende il superpotere. E che è tipica, no? Ha una caratteristica proprio di tutti i più grandi artisti, oltretutto. No, ti ringrazio, lo so questo. No, ma non lo so neanche io alla fine se Gabriele sia così speciale, perché io ho scoperto che tu sei un interista. Sì, ma ognuno ha un lato oscuro, come diceva nel film. Sai, poi ognuno si sceglie la squadra a secondo del proprio carattere. Una volta Sandrino Mazzola mi disse cosa pretendi da noi in fin dei conti e abbiamo nella maglia i colori del mare in tempesta, non saremo mai... Voi invece avete le strisce pedonali, facile, no? Bianco e nero. Date via tranquilli, siete autorizzati a passare. Invece voi avete il colore del mare e il colore oscuro. Tempeste, tempeste. Tempeste, sì, ce ne sono state parecchie. Sì, sì, sì. Nel corso della storia calcistica. Ma io mi diverto di più, non so, voi non vi siete annoiati a vincere tutto sempre? Che palle, no? Mi sta venendo un istinto neroniano di dare fuoco, di incenerire, no? Il nostro Gabriele Salvatores. No, stavo dicendo... Gabriele. Torno. Gabriele. Gabriele. È sparito. Ha veramente il superpotere di essere invisibile? Pazzesco. È tornato. Quindi devo dire, Gabriele, che tu hai davvero questo potere di renderti invisibile. Beh, vorrei averlo davvero. Questo è un giochino, mi è piaciuto, però sarebbe bello farlo. Però sarebbe bello ogni tanto, anche a me piacerebbe tanto. Sì. Gabriele, senti, ma dopo circa una mezz'ora che ti sto intervistando, tu pensi veramente che anche io sia speciale? Devo essere molto sincero? Sì, non so se è un bene o un male, però sì. Appunto, perché sia un dono che una dannazione, dicevamo prima. Esattamente. Ok, quindi anche io sono dannata e... Gabriele, dato che abbiamo scoperto di essere due specialissimi, vogliamo salutare il pubblico che ci sta seguendo da casa in un modo altrettanto speciale? Certo, me lo suggerisci? Quale può essere? Beh, sicuramente invitando il pubblico ad andare a vedere... Certo. No, 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 a parte gli scherzi, sì. Noi, vedete, questo... Hitchcock una volta ha detto per voi è solo un film, per me è tutta la vita. E tutta la vita. Quindi è come se fosse mio figlio, è ovvio che vi invito ad andare a vederlo e magari fargli una carezza, se potete. Bene, a questo punto noi possiamo anche renderci invisibili. Cosa ne pensi? Ah sì, dai, dai, facciamolo. Sai come nel film c'è un gesto che per rendersi invisibile, se vuoi lo possiamo fare insieme. Invece si mette le mani davanti così, si guarda bene la cosa e poi si apre così e scompari. Allora lo facciamo insieme? Vai. Uno, due, tre. Grazie. 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 Grazie.